Sì, c'è stata sintesi fin dall'inizio, che quando poi Centrodestra ragiona in termini di coalizioni, ha ragione in termini politici concreti, riusciamo ad ottenere buoni risultati. E quindi è sotto gli occhi di tutti un risultato che io devo in qualche maniera ringraziare i sindaci e gli amministratori che mi hanno sostenuto, il Presidente Tomo che ha voluto la mia candidatura e tutti i coordinatori di partito che alla fine sulla mia figura mi hanno scelto quale candidato per la provincia. Sappiamo che la nostra regione è una regione ad alto dissesto idrogeologico e questo comporta una serie di criticità sulla viabilità e quindi sulle strade provinciali, ma soprattutto anche la nostra attenzione sarà focalizzata sulla sicurezza nelle scuole. Ma in provincia non ci sono steccati partiti, in provincia c'è una bellissima collaborazione tra tutti i sindaci e gli amministratori, si lavora nell'interesse della collettività, forse l'unica nota positiva di questa riforma è che siamo lì come amministratori di un territorio e non ci sono barriere politiche, viceversa, così come è stata riformata la provincia è un pasticcio che dobbiamo ringraziare a Del Rio.